ciao a tutti roberta mi scrive mi chiede come posso suonare l'intro di mystery of love dal film call me by your name la versione originale prevede una chitarra ed un mandolino quindi dobbiamo necessariamente adattarla mettiamo il capotasto al quinto tasto per avere la tonalità originale del brano le posizioni degli accordi da usare sono semplicemente tre un sol un la e un normale si minore trovate tutte le posizioni nella tablatura e trovate anche l'ordine con cui pizzicare le corde a partire dal pollice il primo accordo sol ripetuto due volte poi passiamo all'a unica accortezza nella ricordatevi di usare due volte il pollice sulla terza corda e infine si minore per poi tornare all'a io me la sono immaginata così e speriamo che roberta con questa compact lesson abbiamo imparato a suonare questo bel brano ciao alla prossima lezione compact